Falsi contratti di lavoro per ottenere il permesso di soggiorno. Nei guai sono così finite 100 persone, tra queste anche una dipendente di un CAF. A scoprire il raggiro sono state le fiamme gialle di San Giovanni Valdarno. La Guardia di Finanza ha infatti scoperto decine di contratti di lavoro fasulli che hanno permesso il rinnovo di ben 126 permessi di soggiorno. Un meccanismo che consentiva ai cittadini extracomunitari di rinnovare in maniera illecita il permesso di soggiorno. Tutto faceva perno sulla richiesta di parte di questi cittadini connazionali di assumerli come collaboratori domestici il che permetteva successivamente di rinnovare il permesso di soggiorno. Le indagini erano partite da alcune verifiche di routine su contratti di lavoro. Quello che ci ha insospettito è che alcuni dipendenti di alcune ditte lavoravano presso la ditta con contratti di collaboratore domestico. Questo ci ha insospettito, abbiamo approfondito questo fenomeno e ci siamo accorti che in provincia d'Arezzo erano presenti molti altri soggetti che avevano un numero alto e non in linea col proprio reddito di collaboratori domestici. Un'organizzazione che aveva lo scopo di assicurare a cittadini stranieri il permesso di soggiorno stipulando in modo fraudolento contratti di lavoro di collaboratore domestico. Gran parte di questi soggetti però facevano riferimento ad un soggetto indipendente di un CAF che comunque li consigliava e sapeva indirizzarli su come svolgere le attività. Un raggiro che ha portato all'erogazione di 150.000 euro di indennità di disoccupazione a conclusione dell'operazione Ariel sono state segnalate all'autorità giudiziaria oltre 100 persone responsabili a vario titolo dei reati di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico errore determinato dall'inganno altrui e di truffa ai danni dello Stato.